Un buon pomeriggio prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con gli aumenti sulle autostrade Perché il rincaro del 13% sull'A24 e l'A25 è un aumento giuridicamente insostenibile Così il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che dopo giorni di silenzio interviene proprio sull'aumento del pedaggio sull'autostrada dei parchi Il servizio di Alfredo Primante Con alcuni giorni di ritardo si aggiunge alla schiera dei contrari all'aumento del pedaggio autostradale del 13% sull'A24 e l'A25 Anche il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, chiamato in ballo da più parti, da associazioni di categorie e consumatori Ma anche dall'opposizione in consiglio regionale Il centrodestra e Forza Italia ieri hanno depositato un'interpellanza urgente Con la quale si chiede alla regione quali siano le azioni intraprese per impedire il salasso Determinato dall'ultimo spropositato aumento dei pedaggi autostradali sull'autostrada dei parchi Nel frattempo, sul versante laziale, l'omologo di D'Alfonso, il governatore Zingaretti, ha già messo in moto l'azione politica Per ottenere dal Ministero dei Trasporti e dal Ministro del Rio, urgentemente, una riunione con il concessionario strada dei parchi Che fa capo alla holding dell'imprenditore abruzzese Toto Sollecitando, d'altro canto, anche il Presidente del Consiglio ad intervenire sulla vicenda Una questione che non è di poco conto Se a rincaro si accoppia la pressoché impossibilità di utilizzare il trasporto pubblico, leggi Ferrovia Per arrivare dall'Abruzzo alla capitale e viceversa Il treno, mezzo che soprattutto per i pendolari sarebbe il modo migliore di viaggiare Nonostante gli annunci e qualche lavoro sulla tratta Pescara-Roma Impiega ancora tempi biblici per il viaggio Tali da rendere praticamente fuori mercato l'offerta del ferro C'è poi il tema del monopolio naturale come l'autostrada in mano al privato È davvero conveniente privatizzare laddove non esiste concorrenza? Certo, neutralizzare l'aumento non sarà facile Perché è meccanismo automatico previsto nei contratti di concessione A cui lo Stato dovrebbe far fronte congelando il salasso e pagando di tasca propria D'Alfonso, come detto in precedenza, è stato tirato in ballo da più parti E questa mattina è intervenuto con una conferenza stampa convocata in gran fretta Dicendo che l'aumento del 13% è giuridicamente insostenibile In tutta Italia infatti la media è sotto il 3% Anche se l'Abruzzo non è l'unico caso di rincaro a doppia cifra in Italia L'autostrada venga percepita e vissuta come un'infrastruttura che ci toglie dall'isolamento Ed è per questo che non si può gestire con questa condizione, diciamo, da safari Dentro questa cornice il Ministro dei Trasporti e il Presidente del Consiglio dei Ministri Devono attivare un'azione sia amministrativa che normativa Amministrativa a favore dei pendolari E normativa per rivedere qual è l'indice che non può essere valicato Per esempio quello che io affermo del 2% come integrazione annua Si è sentito con il Presidente della Regione Lazio Zingaretti Che nelle ore scorse aveva alzato la voce, aveva fatto sentire la voce della Regione Lazio Ma con Zingaretti io parlo spesso e ci troviamo almeno una volta la settimana il giovedì Su questo fronte abbiamo proceduto, abbiamo determinato un'azione divisa Ma per colpire congiuntamente rispetto a un tema che è insostenibile giuridicamente Noi dobbiamo fare in modo che questa autostrada continui a vivere Per il Lazio, l'Abruzzo, l'Italia e l'Europa E continui a vivere se questa autostrada è sicura e si fanno lavori Rimaniamo sempre in tema di trasporti Bilancio del 2017 per la Saga, società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara Buoni risultati ottenuti nell'anno appena trascorso In termini di crescita del traffico aeroportuale Della conferenza stampa, illustrati anche gli obiettivi per il 2018 Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo per il 2017 Importanti prospettive di sviluppo anche per il nuovo anno Presidente Mattoscio, si chiude una stagione importante per lo scalo aeroportuale della nostra regione In Dandova ha sottolineato che ci si consolida il secondo posto nel segmento di mercato Secondo solo a Trieste con 670.000 passeggeri Solo tre anni fa questo aeroporto aveva meno di 500.000 passeggeri Un risultato straordinario, ben oltre anche le aspettative Perfettamente in linea con le previsioni del piano industriale Anche qui chi credeva che il piano industriale fosse fantasioso E' smentito dai risultati, dai dati veri, storicamente ormai acquisiti Siamo un aeroporto che è cresciuto anche molto nei collegamenti internazionali e domestici E su questi presupposti si può ben sperare per il nuovo anno Per la stagione estiva sono previsti nuove destinazioni in direzione di Varsavia e di Malta Altre destinazioni sono in corso di approfondimento e di definizione a livello internazionale Poi sono tutte confermate le destinazioni domestiche In particolare le nuove destinazioni con le isole maggiori Sardegna e Sicilia E si consolida ancora la destinazione Torino Per quanto riguarda il numero dei passeggeri vi siete prefissati un obiettivo per il prossimo anno? Sì, l'obiettivo del prossimo anno è di superare i 700 mila passeggeri L'intersindacale sanitario abruzzese questa mattina a Pescara ha voluto affrontare il tema delle criticità degli atti programmatori in sanità Il focus dell'intersindacale è puntato soprattutto sugli atti aziendali Una concertazione concordata ma nei fatti mai concessa E poi il problema riguardante la rete di emergenza urgenza nella nostra regione L'intersindacale abruzzese si rivolge alla regione Abruzzo al governatore D'Alfonso per muovere delle critiche Dottor Palumbo perché? Noi all'indomani della presentazione delle candidature anche del dottor Luciano D'Alfonso Facciamo sottoscrivere ai candidati Presidente un impegno per risolvere alcune criticità del servizio sanitario regionale abruzzese Liste d'attesa, problemi della spesa farmaceutica, problemi della riorganizzazione del territorio E il problema di alcune progettualità che dovevano essere concertate Ultimamente invece sul discorso degli atti aziendali Noi siamo stati costretti a dichiarare lo stato d'agitazione Perché purtroppo gli atti aziendali che sono un atto regolamentatorio del servizio sanitario regionale E' stato, sì, con noi magari concordato una serie di incontri per cercare di correggere delle difformità esistenti Ma queste cose purtroppo non sono avvenute Siamo oggi, a questo punto, stiamo per aspettare le delibere dell'aggiunta regionale Che avrebbero, diciamo, provveduto a fare degli atti programmatori per ogni azienda Con delle prescrizioni Noi non conosciamo queste prescrizioni Prescrizione significa delle difformità rispetto a delle linee di guida regionali Rete emergenza, urgenza, invece quali sono le problematiche? Siccome si parla tanto di ospedali di secondo livello Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo Noi vogliamo che la rete dell'emergenza, urgenza, venga ricalibrata alle esigenze di ospedali di secondo livello Che avrebbero un compito, quello di risolvere le problematiche importanti Diciamo, le prestazioni di eccellenza E la rete dell'emergenza attualmente non è pronta a fare questo lavoro Restiamo ancora in tema di sanità perché è ancora criticità all'ospedale di Penne Nella struttura dedicata alle persone con insufficienze renali Costrette ad effettuare la dialisi Andiamo a vedere qual è la situazione nel servizio di Vestina News Hanno un nuovo problema vecchio all'ospedale San Massimo di Penne Infatti questa mattina i pazienti del reparto dialisi Hanno visto in pericolo le loro cure per un problema all'impianto idraulico del reparto Questa mattina l'ennesimo disagio che si è verificato qua alla struttura del centro dialisi di Penne Noi come associazione dell'ANED stiamo segnalando da più tempo tutte le difficoltà che ci sono presso la struttura E questo è per l'ennesima volta la dimostrazione che nessuno ascolta né noi come rappresentanti Né i medici che si stanno comunque preoccupando di segnalare queste difficoltà E questa mattina come inizio del buon anno quindi come auspicio per questo anno E' successo l'ennesima disavventura che i pazienti hanno ritardato all'inizio della dialisi Per colpa di questo attappamento che si è verificato Ci sono pazienti che vivono di un equilibrio chimico-fisico molto particolare E questi disagi sono molto pericolosi La struttura principale attualmente si sta sistemando Però il problema rimane come rimane la struttura faticciante Che non è carante di qualsiasi pronto intervento L'ospedale non sta passando dei giorni felici Però noi adesso ci preoccupiamo soprattutto per i nostri pazienti emodializzati Che hanno diritto ad avere una struttura adeguata a soddisfare le loro esigenze Il problema che è successo oggi è un problema puramente legato a alcune carenze strutturali Però il problema che ci poniamo noi è anche quello della qualità dell'assistenza Perché una struttura non adeguata condiziona la qualità dell'assistenza L'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso dopo l'ingresso del nuovo anno Hanno voluto fare il punto sulla situazione relativamente proprio all'acquifero del Gran Sasso Vediamo Purtroppo a distanza di oltre sette mesi, quasi otto mesi dall'incidente del 8 e 9 maggio Noi non registriamo delle grandi novità Continuiamo ad avere un balletto per quanto riguarda quelle che sono delle proposte Di interventi di messi in sicurezza Sappiamo che è stato presentato un progetto di massima durante una commissione tecnica Sulla sicurezza del Gran Sasso organizzata dalla regione Ma questo progetto ancora non può essere conosciuto Addirittura non è stato neanche lasciato ai partecipanti alla commissione stessa Questo ci sembra assurdo perché non riusciamo a capire come si possa mantenere il segreto Su una situazione così importante che riguarda così tanti cittadini Proprio per questo come osservatorio indipendente per l'acqua del Gran Sasso Abbiamo convocato un'assemblea a Teramo per il prossimo 13 gennaio Nel pomeriggio per fare il punto della situazione a due mesi Dalla grande manifestazione per l'acqua trasparente che abbiamo organizzato a Teramo a novembre E per chiedere nuovamente alle istituzioni, in primo luogo alla regione Di fare chiarezza su quella che è la messa in sicurezza del Gran Sasso e dell'acquifero Ci spostiamo a Lanciano adesso dove il primo cittadino del capologo frentano Mario Pupillo ha stilato un bilancio dell'attività di governo della città nel 2017 Bilancio segnato però dalla morte del vice sindaco Pino Valente È stato un anno difficilissimo, complicato, la perdita di Pino si fa sentire Lo ricordiamo tutti, però andiamo avanti su quello che è stato il progetto di città Che noi abbiamo elaborato insieme in questi anni Insieme alla Giunta e ai consiglieri Una città che guarda al futuro, guarda all'ambiente come un aspetto fondamentale della vita di questa città Di questo territorio Guarda alle scuole Nella programmazione di un adeguamento sismico e di quello che è antincendio Guarda al futuro per una progettazione che possa risolvere alcuni problemi della città Io penso allo spazio della Pietrosa che da 30 anni e così rimane un'opera incompiuta Guardo al futuro di questa città per quanto riguarda l'ospedale La cittadina della salute che abbiamo disegnato e che sta andando in porto Un ospedale che possa servire questo territorio Il Tribunale di Lanciano che dobbiamo difendere a tutti i costi Con la città di Vasto, con il sindaco Menna Stiamo elaborando un progetto che possa unire due tribunali Tutto questo insieme a una progettazione di alcuni spazi Come quello del corso che stiamo iniziando da poco Che andranno a risolvere anche quello Un tratto della città, una parte della città che non è stato mai interpretato E preso di petto dalle amministrazioni precedenti E l'hanno sempre trascurato Tutto questo insieme poi a una progettazione della cultura E del turismo che penso possano avere nei prossimi anni un impulso Noi abbiamo partecipato al bando di Lanciano Capitale della Cultura Abbiamo ovviamente una concorrenza guerritissima Sicuramente non vinceremo Ma è servito questa esperienza a recuperare risorse A recuperare associazioni, persone di grande cultura Che vogliono dare a Lanciano questo messaggio Che possa poi attrarre i cittadini a vivere e a venire a Lanciano Con le grosse istituzioni come i corsi musicali Come il Mastro Giurato Tutte esperienze che ormai sono decennali E che fanno di questa città una città attraente Tredicesima edizione del pianeta Maldicenza all'Aquila Presentata in Comune Tradizione questa tipicamente aquilana Che si rinnova con tante novità Tredicesima edizione per il festival Il pianeta della Maldicenza Organizzato da vari congreghi agnesine dell'Aquila Con il coordinamento della confraternita Devoti di Sant'Agnese L'iniziativa che gode del padrocino del Comune Intende rinnovare una tradizione tipica dell'aquilanità Il programma è stato illustrato dal presidente dei devoti Angelo De Nicola E dai rappresentanti delle confraternite protagoniste dei vari appuntamenti Tra le novità principali La riproposizione dello zibaldone aquilano In programma il 6 gennaio all'editorium del parco Per omaggiare il suo autore Mario Lolli A cent'anni dalla nascita Ci sarà anche l'omaggio a Ludovico Nardecchia Primo grande promotore del pianeta Maldicenza Ed ex amministratore comunale Scomparso a marzo il 21 gennaio Al ridotto del teatro L'Agnesino d'Oro 2018 Intitolato a Ludovico Nardecchia Sarà segnato al termine del concorso d'arte varia Che si terrà nel pomeriggio del 20 gennaio All'editorium del parco Novità la tre giorni cinema e Maldicenza Curata da Gabriele Lucci Una rassegna tra realtà e finzione Dicesima edizione del pianeta Maldicenza Con tutta una serie di novità Tre in particolare sono le novità Lo zibaldone aquilano Un testo di Mario Lolli Nel centenario della nascita Interpretato da attori non professionisti Credo che ci sarà particolarmente da ridere Da sorridere con questo mitico testo Del nostro mitico Mario Lolli Poi ci saranno tre giorni dedicate al cinema E alla Maldicenza curate da Gabriele Lucci Per tre giorni all'auditorium del Lance Si proietteranno tre pellicole E si discuterà di queste pellicole Del significato che queste pellicole hanno Questi tre grandi film E poi ci sarà un omaggio A Ludovico Nardecchia Scomparso lo scorso anno Il nostro fondatore Questo avverrà significativamente il 21 Nel giorno di Sant'Agnese Con un concerto della Corale Gran Sasso Presso il ridotto del teatro comunale Ci saranno anche eventi sul dialetto Nelle scuole Sabato 20 come dicevamo All'auditorium del Parco alle 16 Il concorso d'arte critica Alle 18 fuori all'auditorium Invece la consegna del Paglio di Sant'Agnese Alla confraternita vincitrice Premiazione del vincitore dell'Agnesino Intitolato a Nardecchia Dalle mani del sindaco dell'Aquila Biondi Ci sarà anche la consegna del premio Sezione Giovani Intitolato a Luciana Cucchiella All'istituto scolastico vincitore La municipalità offrirà a tutti Brindisi caldo Preparato dall'ANA Gruppo Alpini Iacobocci dell'Aquila E dolce e salati di Sant'Agnese Dopo i concerti di fine anno Il comune di Peschiara Pensa come rivitalizzare lo shopping In centro in vista dei saldi Varando l'iniziativa Urban Shopping Vediamo Passate le festività natalizie Arrivano i saldi Padovano che periodo si prospetta Per il commercio soprattutto a Pescara? Beh c'è una leggera ripresa Il commercio a Pescara Attraverso le iniziative Che sono state fatte nella città Il centro commerciale naturale aperto Sta dando i suoi frutti La città è visitata da tanti turisti La giornata del primo dell'anno È stata il 31 dicembre Quella che ha portato il pienone Nei ristoranti e anche negli alberghi Fatti positivi Chiaramente le visite di questo periodo natalizio Sicuramente il valore aggiunto Per andare nei negozi E acquistare quei prodotti Che una settimana fa avevano un costo Adesso con l'iniziativa dei saldi Avranno sicuramente Il consumatore Acquistare un capo di abbigliamento Un paio di scarpe Tutto quello che ci sta nelle vetrine A un prezzo ridotto Si compra sempre di più i saldi durante l'anno? Beh, ormai è notorio Penso se le chiede a sua moglie Oppure chiediamo alle nostre famiglie Tutti stavano aspettando i saldi Perché è il momento di fare la scelta Certo che questa iniziativa dei saldi Affretterà sicuramente i clienti A rincorrere da subito Dopo il 5 gennaio E quindi in questa circostanza L'amministrazione comunale Ci sta mettendo anche iniziative di tempo libero E questo non fa altro che arricchire Sempre di più la nostra città Tutto quello che si fa nella città di Pescara È sicuramente un bene Che va a tutto l'indotto Sicuramente è molto meglio Dei centri della grande distribuzione Lì ci sono Entri in un contenitore di plastica Da noi invece entri In un contenitore dove è all'aria aperta L'ambiente Tanti negozi Bar E in conti di tanta gente L'abbiamo visto il 30 di gennaio L'abbiamo visto il 31 E noi ci auguriamo che questo è il termometro Per la stagione estiva 2018 Torriamo all'Aquila adesso Perché è tutto pronto Per la fiera dell'Epifania Appuntamento di rilievo Programmato per il 5 di gennaio Dalle 9 del mattino Più di 300 espositori Arriveranno in centro Da tutta Italia Vediamo Meno espositori A casa della presenza di cantieri E niente bancarelle in piazza Duomo Già occupata dalle casette di legno Del mercatino di Natale Dalla pista di pattinaggio Torna il 5 gennaio Dalla mattina fino alla sera La tradizionale fiera dell'Epifania All'Aquila Un appuntamento di punta Per la città Sempre attesissimo A presentarlo in comune Questa mattina L'assessore al commercio Alessandro Piccinini Siamo pronti per questa edizione Della fiera dell'Epifania Quest'anno abbiamo dovuto impegnarci Siamo impegnati un po' più del solito Visti le ragioni di sicurezza Dopo i fatti di Torino Che ci sono stati chiesti Siamo giorni che siamo qui In comune con tutti i vari settori Per cercare di organizzare Nel modo migliore possibile La fiera dell'Epifania Ci saranno all'incirca 330 espositori Quindi siamo in linea Più o meno con i numeri dell'anno scorso Nonostante nel centro storico Ci siano più cantieri Quindi alcune zone le abbiamo In qualche modo dovute delimitare Ci sarà un controllo capillare Su tutta quanta la zona Ci saranno individuate e spiegate Delle vie di fuga La manifestazione partirà Dalla parte dell'ingresso Della villa Avrà tutto un circuito Per arrivare più o meno All'altezza della fontana luminosa Questi sono i numeri Di questa manifestazione importantissima Questa è la nostra prima edizione Quindi ovviamente Ci siamo molto impegnati Che abbia una riuscita soddisfacente Stiamo lavorando anche per un format Per i prossimi anni In modo da non farci trovare impreparati Ci aspettiamo un discreto afflusso di gente Speriamo anche da fuori regione Ci aspettiamo un gran numero di espositori Da tutta Italia Quindi una selezione di prodotti E varia Le bancarelle riempiranno Un anello che circonda Il parco del Castello Via Le Gran Sasso Piazza Battaglione Alpini Via Tagliacozzo Via Malta Via Castello Via Zara Via Signorini Corsi Via Pampilo Tedeschi Via San Bernardino Corso Vittorio Emanuele E poi da Capopiazza Fino alla Villa Comunale Interessando tutto Corso Federico II E adesso apriamo la pagina di Sport Perché oggi l'apertura della sessione invernale di Calcio Mercato Dopo aver analizzato la situazione del Pescara sotto il profilo delle cessioni Oggi facciamo il punto sui nomi che interessano il Delfino Gli obiettivi sono un difensore centrale, una mezzala e un esterno d'attacco Su quest'ultimo fronte il nome più caldo è quello di Filippo Falco Ora la Perugia ma di proprietà del Bologna Il servizio di Andrea Costantini Priorità alle uscite per assottigliare l'organico Ma il Pescara nella campagna di gennaio che si è aperta ufficialmente stamani Va a caccia di alcuni rinforzi Un puntello intanto per la difesa Visti gli infortuni di Fornasiere Bovo E che Stendardo e Campagnaro se mai restassero inorganico Non darebbero adeguate garanzie dal punto di vista fisico Il sogno Alessandro Bastoni rimarrà tale Poiché l'Inter che ne aveva acquistato il cartellino in estate dall'Atalanta Dove era rimasto in prestito Ora ne chiede l'arrivo anticipato Proprio alla corte di Spalletti E allora il Delfino vira su un altro difensore Che ha un recente passato all'Inter Il 19enne Franco Guadalupense Andrew Gravillon Che in estate è stato acquistato a titolo definitivo dal Benevento Con cui ha firmato un contratto fino a giugno 2021 Fino ad appena due presenze coi sanniti Che potrebbero girarlo in prestito il rival adriatico Altro nome caldo sul taccuino dei DS Pavone e Leone E Arturo Calabresi Classe 96 Ora allo Spezia in prestito dalla Roma Anche per lui solo due presenze in campionato E quindi la necessità di cambiare aria E avere nuove opportunità Un nome interessante è quello di Gianluca Mancini Anche lui del 96 Di proprietà dell'Atalanta Con cui ha debuttato in A E che ha alle spalle due buone stagioni in Serie B con il Perugia Il buon rapporto col club aerobico Potrebbe incidere in questi giorni in cui il Pescara restituirà Latte Latte E cercherà conferme circa la permanenza di Valzanino Sul fronte portiere non è ancora certo che il Pescara opti per un sostituto di Pigliacelli Nel caso il profilo è quello dell'ex Salernitana e Gubbio Entoni Giannarilli ora la Viterbese Altrimenti sarà ancora Antonino il dodicesimo A centrocampo l'infortunio di Palazzi e la probabile partenza di Coulibaly Rendono necessario un innesto Sondaggio per l'ex lancianese Fabrizio Paghera Che è in uscita dall'Avellino Ma che è conteso da Brescia Salernitana Per l'attacco il Pescara è alla ricerca di un esterno Il principale obiettivo è Filippo Falco L'attaccante è ora in prestito al Perugia Ma di proprietà del Bologna Spesso ha anche ricoperto il ruolo di trequartista Il Pescara deve battere la concorrenza dell'Empoli Ma anche del Benevento Che potrebbe fare un pensierino al giocatore Che lo scorso anno ha militato proprio con i Sanniti Essendo un protagonista della promozione in Serie A Altro obiettivo è l'uruguayano Cesar Falletti L'ex ternana ora di proprietà del Bologna Ha trovato poco spazio con Donadoni E potrebbe essere girato in prestito Il Pescara continua poi a monitorare Luca Vido Ma l'attaccante dell'Atalanta ha tanto mercato E cerca una squadra che punti forte su di lui Ma nel suo ruolo il Pescara ha già un bomber da doppia cifra Pettinari E potrebbe non gradire la destinazione Scendiamo in Serie C Perché inizia il calciomercato anche in casa Teramo Anche se c'è ancora da attendere Perché il summit tra il presidente Campitelli E il direttore sportivo Giorgio Repetto Ci sarà solamente nelle prossime ore Il frattempo si è svincolato ufficialmente Dalla San Benedettese L'attaccante Lorenzo Sorrentino Giocatore che però non sembra infiammare Nelle fantasie del patron bianco-rosso Ieri la ripresa degli allenamenti Da domani probabilmente si inizia a parlare di mercato E nel casa Teramo il 2018 ricomincia Sì ma senza fretta Perché il prossimo impegno è ancora distante Di 6 a 7 giorni E perché in questo frangente Sono le possibilità di mercato a tenere banco Dovrà arrivare un attaccante Ammesso che qualcuno Ciro Foggia in pole position Parta C'è stato un interessamento per Lorenzo Sorrentino Che tuttavia non infiamma Né la platea bianco-rossa Né tanto meno il presidente Campitelli Che se proprio deve tornare sul mercato Vuole farlo per una punta Che cabbi un po' il volto della squadra Altrimenti si corre il rischio di ripare Gli errori del passato La punta ormai ex San Benedettese Dallo stesso presidente Fedeli Venne definito qualche settimana fa Un giocatore di serie D L'occasione sarebbe stata più economica Che tecnica E non è detto che comunque non possa arrivare Ma il patron del Teramo Rimane molto freddo Sulla questione Aspettando nelle prossime ore Di incontrare Asta e Repetto Per fare il punto della situazione L'incontro che Sorrentino Dovrebbe avere con la dirigenza del Teramo Di fatto è solamente un'indiscrezione Che per ora non trova conferme Anche perché senza il rientro di Campitelli È impossibile procedere ad eventuali trattative Poi ci sarebbe anche lo scorre In terza serie 42 gare disputate e 6 gol Insomma il diavolo avrebbe bisogno Di un apporto di reti superiore Per centrare la permanenza in tempi brevi Impossibile arrivare a giocatori in uscita Come Nicola Ferrari O Gianmario Comi del Vicenza L'ingaggia è insostenibile Per le casse del Teramo E allora il focus potrebbe spostarsi Proprio sui giocatori Che vengono dall'Inter regionale Ma se Magrassi del Materica Rimane un sogno proibito Le altre big dei gironi in sud Non sembrano voler far partire i loro bomber Chi dovrebbe partire invece in casa Teramo Oltre a Diallo è Lorenzo Paolucci Nulla da fare neppure nella seconda esperienza Biancorossa per lui Troppo poco spazio E la necessità di andare d'altrove E sempre via Pescara Per trovare maggiore continuità La società di Campitelli però Dovrà comunque muoversi Per prendere una pedina Che possa numericamente sostituire Paolucci E che abbia piena consapevolezza Di essere un'alternativa ai titolari Per ora tutto tace Aspettando i primi colpi Attesi però solamente Per la prossima settimana E nel weekend ricomincia il campionato di Serie D Andiamo in casa Avezzano Perché dopo aver superato Un fastidioso problema muscolare al polpaccio Il trequartista bianco-verde Federico Cerone È pronto a tornare a lavorare con il gruppo In vista della trasferta di Iesi di domenica Che segnerà anche l'inizio del girone di ritorno Federico Cerone Dopo il problema al polpaccio Hai finalmente recuperato Come ti senti? Sicuramente meglio Siamo stati a riposo ormai da quasi 20 giorni Considerando anche la partita di Motelica E con le terapie del caso Siamo arrivati a buon punto E penso di entrare oggi con la squadra Il prossimo impegno è la partita con la Iesina Come vedi la gara? Sicuramente sarà una partita difficile Al giorno di ritorno sappiamo che è un altro tipo di campionato E chi deve fare punti per salvarsi Gioverà col cortello fra i denti Ma sicuramente anche noi ci faremo trovare pronti No, io penso che la nostra dimensione sia quella dei pre-off E effettivamente il campo sta dicendo che sia la di Spesaro Che il Manerica stesso hanno qualcosa in più E' giusto riconoscerlo Noi sicuramente proveremo a fare di tutto per arrivare nelle zone più alte della classifica Però tutto questo deve e potrà arrivare tramite il lavoro Cosa ti auguri dal girone di ritorno? Il girone di ritorno sicuramente mi auguro di ripetere le 12 partite che abbiamo fatto positive nel giorno di andata E girare in maniera diversa le prime 5 dove non abbiamo dimostrato il nostro reale valore Restiamo in Serie D perché è ancora molto attivo in sede di mercato il Francavilla La società giallorossa oggi ha annunciato il tesseramento del portiere classe 1999 Marco Fargione Proveniente dalle giovanili del Pescara dove ha giocato fino alla fine del 2017 Con il Francavilla però si sta allenando in questi giorni il centrocampista ex Virtus Lanciano Domenico Di Cecco che giorni fa ha rescisso il contratto che lo legava la San Benedettese A breve Di Cecco si legherà con il sodalizio del patron Gilberto Candeloro E sarà probabilmente a disposizione per la partita del prossimo 14 gennaio Quella tra Francavilla e Nerostellati valevole per la seconda giornata di ritorno Con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del telegiornale Vi ricordo la seconda alle ore 19 Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento Grazie a tutti